Quanto fa male star seduti troppo a lungo? Una ricerca ha collegato lo stare seduti per lunghi periodi di tempo a diversi disturbi, tra cui l'obesità e la sindrome metabolica, ma non solo. La sedentarietà sembra anche aumentare il rischio di morte per malattie cardiovascolari e cancro. Lo stare seduti crea anche piccoli disturbi, per esempio dopo aver mangiato comprime i muscoli addominali e rallenta la digestione, portando talvolta a carampi, bruciore di stomaco e costipazione. Quando si sta seduti il sangue scorre più lento e i muscoli bruciano meno grassi. Ciò può favorire problemi cardiocircolatori.